Fino a dieci anni fa si pensava che la sclerosi multipla fosse una malattia unicamente della sostanza bianca, appunto dell'assone. Oramai da diverso tempo sappiamo invece che essere colpita è anche la sostanza grigia, quindi il neurone direttamente. Il ruolo però di queste lesioni è ancora oggetto di discussione, cioè non è ben chiaro se esse poi abbiano un effetto sull'evoluzione della malattia e soprattutto sulla disabilità dei pazienti. Qui ai top seminar sulla sclerosi multipla, giunti ormai alla decima edizione, questo tema è stato oggetto di un dibattito, di un confronto tra due esperti, uno dei quali era il dottor Calabrese, al quale abbiamo chiesto di rappresentare tutte e due le posizioni, quindi le ragioni del sì e le ragioni del no. Dottor Calabrese, perché queste lesioni possono avere un ruolo attivo nell'aggravamento della malattia? Bene, buongiorno. Allora innanzitutto le ragioni del sì sono chiare, perché quando noi guardiamo, è opinione normale in ambulatorio, quando si vedono risonanze magnetiche dei pazienti che ci vengono all'esordio della loro malattia, avere un grave compromissione già appunto all'esordio della sostanza bianca senza avere una importante disabilità del paziente. E all'opposto abbiamo pazienti nei quali pur in assenza di una patologia della sostanza bianca è rilevante, così come la possiamo vedere alla risonanza magnetica, si è invece una disabilità molto avanzata. C'è quindi quello che si chiama paradosso neuroradiologico tra quello che spiega la disabilità spiegata dalla sostanza bianca, dalla patologia della sostanza bianca e la disabilità che invece noi vediamo realmente sul campo. E' quindi chiaro che c'è qualche altra componente di danno che sia distinta da quella della sostanza bianca che gioca un ruolo rilevante nella disabilità clinica dei nostri pazienti. Ed in particolare la compromissione della sostanza grigia sia in termini di atrofia della sostanza grigia e soprattutto in termini di lesioni corticali, cioè di lesioni infiammatorie focali dentro la sostanza grigia, ha dimostrato di correlare molto meglio che non la sostanza bianca con la disabilità clinica dei pazienti sia quella parte fisica che la parte cognitiva. Ci sono dei dati oramai numerosi a supporto di di questa ipotesi anche con follow up lunghi tre anni e che dimostrano come la componente di danno corticale debba necessariamente essere sommata alla componente di danno della sostanza bianca per avere una spiegazione migliore della disabilità clinica dei nostri pazienti. Ecco queste sono le ragioni del sì, invece le ragioni del no, cioè di una non correlazione tra il danno alla sostanza grigia e l'evoluzione della malattia quali sono? Le ragioni principali del no derivano dal fatto che con le attuali tecniche di risonanza magnetica, anche con quelle migliori, la componente di danno corticale che noi possiamo vedere è sicuramente molto piccola e quindi difficilmente si pensa possa questa essere la causa della disabilità dei nostri pazienti. D'altra parte c'è anche da tenere in considerazione che le tecniche di risonanza magnetica oggi disponibili sono sicuramente molto deboli nei tentativi di identificare la patologia della sostanza grigia e quindi offrono il fianco a molte opposizioni e critiche. C'è anche da dire inoltre che la patologia che riguarda il midollo spinale e quindi una parte importante della patologia della sclerosi multipla non viene generalmente considerata in maniera adeguata e quindi va tenuta anche questa in considerazione quando si parla di disabilità. Ecco, visto che queste cose non sono solo disquisizioni teoriche ma hanno poi un impatto sulla ricerca e quindi sulla qualità di vita dei malati, ecco, che considerazioni possiamo fare su questo argomento? Possiamo dire che concludendo secondo me sono giuste sia le ragioni del sì che le ragioni del no, non per essere politically correct, ma perché non esiste una correlazione netta con una sola parte della patologia della sclerosi multipla, ma la patologia della sostanza grigia, della sostanza bianca cerebrale e probabilmente di quella spinale devono essere tenute tutte in considerazione per cercare di spiegare meglio l'evoluzione clinica dei nostri pazienti. Quindi non vi è una causa sola, ma dobbiamo pensare ad un puzzle e ognuno di questi elementi viene considerato un piccolo pezzo del puzzle.